Dopo un'inedita campagna elettorale estiva, unica nella storia repubblicana, gli italiani votano per eleggere un Parlamento con un terzo di componenti in meno, 400 deputati e 200 senatori. Seggi aperti fino alle 23, poi il via allo spoglio. Sono quasi 51 milioni gli italiani chiamati alle urne, 4,7 milioni all'estero. Il 51% sono donne. Si teme l'astensione, ma si sono notate in realtà lunghe file davanti ai seggi, che qualcuno attribuisce alle lungaggini dovute al tagliando antibrogli. Sentiamo una presidente di seggio. C'è un sacco di affluenza rispetto al referendum. La volta scorsa non c'era nessuno. Qua infatti, come potete vedere, c'è una fila infinita di persone. E con il tablet? Oh, bello, divertente. Ed è comodo. Questo qua è il primo anno, quindi abbiamo il doppione, cartaceo e tablet. Quindi è un pochettino più macchinoso, ma poi sarà più... Un'innovazione che ci voleva. Sì, 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 assolutamente. Dall'anno prossimo, se rimane, dovrebbe essere più veloce. Nelle nostre immagini il voto del sindaco di Cremona Galimberti, della deputata uscente della Lega Comaroli, della candidata del PD Bonaldi, del candidato di Fratelli d'Italia Ancorotti, del prefetto di Cremona Conforto Galli. Nella provincia di Cremona gli elettori sono 267 mila divisi in 403 sezioni, di cui 76 nel capoluogo e 10 ospedaliere. In Italia 2,6 milioni maggiorenni che votano per la prima volta al Senato, dove prima, per votare, occorrevano almeno 25 anni. A Cremona 374 i diciottenni che votano per la prima volta, come questa ragazza. Primo voto? Primo voto, veramente. Emozionante? Sì, due giorni fa era il mio compleanno, quindi... No, no, emozionante. Poi mi sono sentita utile per l'Italia, quindi... Avevi qualche dubbio? No, no, no. Cosa diciamo allora a tutti quelli che invece sono pieni di dubbi e magari non andranno a votare? No, che dovete andare a votare perché è utilissimo e così vi sentite parte dell'Italia.